Ale, ma cos'hai scoperto? Aspettate che ricevo la fatica Tu togli la catenina e sei un po' Notorious B.I.G. La fontana è indecisa su che pasta prendere La tua Io ho provato una pasta nuova oggi Buon appetito Dove all'inizio del 1700 le donne che comunque erano un po' nervose pensavano che subissero questa patologia di essere isteriche Quindi compravano un vetro Andavano ad un dottore e questo dottore le faceva al Brian Autorotism Il dottore Dai l'ho spento Come Brian No, no Lui vede solo schiene, Bella Fino a che questo si è giocato il polso Facendo cosa? Facendo E allora ha detto Ma io devo fare qualcosa Per questa Per questa Ha trovato un meccanismo nel 1700 E' inventato Vibratore Cos'è stato inventato nel 1700? Fede Fede Ma cos'è questo movimento? Cos'è questo movimento? I dottori Ammazza Del male anche Già Ma cos'è questo movimento? Sì